Un attimo solo, abbiamo qua, con i vostri applausi, Sasha Schiappacasse! Cantarella, applauso! Da Milano, prego, baci, abbracci, seguita da mamma, mamma Jenny, anche lei, grande star! Giada Randi! Applauso! Giada Randi, anche Giada Randi per un soffio, non è riuscita a raggiungere, si Teresa se vuoi rimanere qua rimani fino a tardanotte, vai con il commento a caldo, a chi la devi? Ai miei genitori! Chi sono presenti? Sì, io sono il mio babbo, ringraziamo loro! Bene! No, allora, bellezza in passerella, scusate un attimo perché era stata cerchiata, è Giada Randi, dunque io farei un applauso a Giada Randi, scusami, ha vinto anche bellezza in passerella, vinte in Sorbatova, la mamma 2018, lo facciamo anche con Doris poi, eccola qua, fantastica! Da Reggio Emilia è venuta a trovarci! Bene! Preparati! Allora, la fascia del web, premi, ecco qui sono i premi importanti di Alonis, la confezione con la borsa! Grazie, grazie a Tonella! Vince il titolo importante del web e accede alle prossime fasce come anche Giada Randi e Sonia Cantarella, Emma D'Ambra e Sasha, ma lei in particolar modo perché ha vinto la fascia del web importantissima, viene da Sarmato, ha finito la maturità recentemente, ha un'amica sociale che non è qua questa sera e si chiama Chiara Antonucci, non vi dico chi è l'amica, Chiara Antonucci ha vinto il titolo del web! Conte Baranchieri, il contento era all'Avila anche per Mismondo Italia, Mismondo Piacenza quando vinse appunto lei, la grandissima Margot Marchionni, adesso sei qua ancora, vediamo un attimo chi premiamo con la fascia di terza classificata, Alonis Prodotti ed è la fascia, mostramela! Hotel Caroli, tra l'altro vinse, ha vinto alla finale nazionale una ragazza di Chiara Elg, ha vinto la fascia di Hotel Caroli-Hotella alla finale nazionale di Gallipoli, bene, vince il titolo, lei ha fatto un po' di strada ma ne è valsa la pena, Martina D'Ambra! Martina D'Ambra! Allora, seconda classificata, Marco Marchionni! Applauso! Marco Marchionni! Marco Marchionni! Doris Martinez, un applauso, Paolo a premiare, la fascia principale appunto di Miss Mondo che raggiungerà poi tappe successive. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie!